un concerto alla scala per ricordarlo questo l'omaggio di milano a claudio abbado scomparso stamane all'età di 80 anni un legame quello di abbado con il capoluogo lombardo che è andato oltre la musica basta ricordare il cachet chiesto all'allora sindaco moratti per tornare alla scala 90.000 alberi da piantare in città cabobo deve lasciare il carcere per essere trasferito in una struttura psichiatrica e l'esito della perizia richiesta dal tribunale del riesame sulle condizioni del ganese responsabile degli omicidi a colpi di piccone lo scorso maggio nel quartiere ni guarda il 27 gennaio la decisione definitiva il leader milanese del pd pietro bussolati promuove l'amministrazione pisapia ma chiede al sindaco un cambio di passo milano deve pensare in grande dice senza la zavorra romana sul limu ammette impossibile fare diversamente il comune è pronto a varare nuovi sconti agevolazioni per tessere abbonamenti atm l'idea è quella di far risparmiare gli over 65 e chi utilizza i mezzi pubblici in determinate fasce orarie buonasera ben trovati al nuovo al consueto appuntamento con l'informazione del tgn è morto claudio abbado l'annuncio questa mattina il teatro alla scala organizzerà un grande concerto per ricordarlo una nota del sindaco pisapia ha spiegato questo modo del capoluogo lombardo di ricordare abbado aveva 80 anni la camera ardente a bologna un dolore insopportabile hanno definito i vertici del piccolo teatro di milano la scomparsa del grande direttore d'orchestra e senatore a vita claudio abbado un grande uomo di cultura innamorato della propria città per il sindaco giuliano pisapia claudio abbado aveva 80 anni e da tempo era molto malato era nato a milano il 26 giugno del 1933 ed è morto stamane alle 8 e 30 serenamente come hanno sottolineato i familiari nella sua casa di bologna messaggi di cordoglio stanno giungendo da tutto il mondo politico artistico e dai fans a livello internazionale è stato direttore della scala della stazopera di vienna e dei berliner philharmoniker ha acquisito meriti artistici nel campo musicale attraverso l'interpretazione della letteratura musicale sinfonica e operistica alla guida di tutte le più grandi orchestre del mondo il 30 agosto 2013 era stato nominato senatore a vita dal capo dello stato giorgio napolitano nato a milano nel 33 era figlio della violinista michelangelo abbado era stato insignito di onore efficienza e riconoscimenti in tutto il mondo in italia dal 1984 era cavaliere di gran croce dopo gli studi al conservatorio di milano aveva iniziato nel 58 la sua attività direttoriale in italia all'estero è stato direttore stabile della scala dal 68 all'86 sino al 91 della stazopera di vienna quindi sino al 2002 ha diretto i berliner philharmoniker per poi dedicarsi alla chamber orchestra of europe da lui istituita nel 1978 abbado auspicava una stretta collaborazione tra le varie arti riteneva deprecabili italia la cultura in nome della crisi nel 2008 quando era sindaco letizia moratti gli venne chiesto cosa avrebbero dovuto offrirgli a milano per un suo ritorno alla scala e lui rispose un cachet fuori dall'ordinario 90.000 alberi piantati nel capoluogo lombardo insomma un pagamento in natura adesso il sindaco pisapia ha chiesto al sovrintendente della scala di organizzare un concerto per ricordare il grande maestro e altre iniziative verranno annunciate nei prossimi giorni nel servizio di massimo scarizzi riguardiamo e rivediamo le immagini di abbado che chiede quel famoso cachet fuori dall'ordinario come ha detto nel servizio alberto carreras al ex sindaco letizia moratti per tornare alla scala vediamo con la vicenda milanese d'occhi il maestro claudio abbado indissolubilmente legato alla storia del novecento di milano è qui che era nato il 29 giugno del 1933 l'amore per la sua città non è mai venuto o meno tanto che nel 2010 abbado si era detto pronto a tornare a dirigere alla scala dove mancava dal 1993 il compenso richiesto all'ex sindaco letizia moratti era semplice si trattava di alberi 90.000 piante un filo verde dal centro alla periferia lungo l'asse san babila castello nelle strade periferiche da valorizzare nelle piazze trasformate dopo anni di lavori per i box sotterranei un sogno durato poco quello del maestro perché l'inaspettato casce non fu mai pagato e lui tornò a dirigere dal palco della scala solamente nel 2012 dopo la sconfitta del centrodestra palazzo marino abbado è stato anche un grande intellettuale della sinistra italiana negli anni 70 decise di democratizzare la musica classica portandola nelle fabbriche per gli operai realizzò concerti per i miei ambienti per studenti e lavoratori la sua prima volta alla scala il 7 dicembre del 1968 è rimasta indelebile nella memoria dentro il don carlos di verdi fuori la contestazione del movimento studentesco guidato da mario capanna che imbrattò le pellicce delle sciure milanesi a colpi di uova il suo impegno per una musica davvero popolare è continuato negli anni e lo ha portato in ogni angolo del globo in venezuela ha sostenuto il progetto abreu che strappa i ragazzi dalla strada e offre una possibilità di riscatto attraverso la musica da quell'idea sono nati direttori d'orchestra come gustavo dudam il vera e propria star internazionale tornò a milano il 30 ottobre del 2012 dopo 20 anni dalla sua ultima volta una sesta sinfonia di maler che gli valse 15 minuti di applausi una notizia di cronaca adesso destinata a far discutere le condizioni di salute mentale di adam cabobo il ganese che ha ucciso tre passanti a colpi di piccone sono incompatibili con il carcere e deve essere trasferito da san vittore a un ospedale psichiatrico giudiziario lo ha accertato una perizia disposta dal tribunale del riesame che sulla base della perizia poi dovrà decidere nei mesi scorsi una perizia invece disposta dal gip andrea ghinetti ha stabilito che il ganese non era incapace di intendere di volere al momento dei fatti anche se soffre di una forma di schizofrenia la perizia disposta dal riesame doveva valutare invece attraverso alcune visite eseguite nei giorni scorsi la compatibilità o meno delle condizioni dell'immigrato con il regime carcerario questa relazione potrebbe però avere in ipotesi anche riflessi dal punto di vista della difesa sul processo con rito abbreviato che inizierà il prossimo 6 febbraio la perizia dovrà essere discussa in un'udienza a riesame fissata per il prossimo 27 gennaio dopo lo sciopero di venerdì nuova protesta oggi dei dipendenti della simens di milano con un'assemblea e un presidio davanti alla sede della bicocca dicono no alla revoca da parte dell'azienda delle regole contrattuali relative alle trasferte del personale alberto carreras sono proseguite oggi le assemblee i presidi di protesta dei circa 1200 lavoratori simens delle sedi milanesi secondo quanto riferito dai sindacati l'azienda ha modificato unilateralmente senza alcun confronto le regole contrattuali relative alle trasferte del personale questo causerà a partire dal 17 febbraio un peggioramento sostanziale delle condizioni di lavoro ed economiche di oltre la metà dei dipendenti della multinazionale tedesca da venerdì scorso i rappresentanti sindacali stanno gestendo un pacchetto di 20 ore di sciopero simens ha deciso di svettare l'accordo sulle trasferte questo cosa sta a significare? sta a significare che oltre la metà dei 2200 dipendenti di simens andranno a lavorare fuori dalla sede con un trattamento che è notevolmente inferiore dal punto di vista economico rispetto all'attuale simens lamenta di far questo per un risparmio di costi noi contestiamo a simens che il risparmio di costi sarebbe potuto tranquillamente avvenire andando a intervenire su una parte economica che non è così delicata e fragile come il trattamento di trasferta oltre la metà dei dipendenti simens chiede che non ci sia questa penalizzazione economica sulla loro trasferta il secondo è dimostrare a simens che le questioni anche controverse non si risolvono disdettando gli accordi perché se dovessimo far capire a simens che è facile percorrere questa strada vuol dire che tutto quello che è regolato da accordi sindacali che determinano le condizioni di lavoro e le condizioni economiche di simens potrebbero essere messe in discussione in qualche momento Si sta decidendo in questi minuti il futuro sportivo di Guarin e Vucinic nel pomeriggio sembrava certo uno scambio tra Inter e Juventus poi i tifosi nerazzurri hanno protestato sui social network e non solo e si è bloccato tutto adesso la palla passa a Toir a breve probabilmente una comunicazione ufficiale ma riviviamo questo pomeriggio convulso sulla tratta Milano-Torino Assemblei presidi non ce l'abbiamo andiamo avanti Poi torneremo sul calcio se riusciamo il gruppo di lavoro del Consiglio regionale della Lombardia sui costi della politica si riunirà mercoledì prossimo per affrontare il tema della riduzione dei vitalizi le proposte sul tavolo sono quattro e saranno esaminate spiega una nota del Pirellone durante la riunione per arrivare a un testo condiviso dalle forze politiche la prima ipotesi è una riduzione fissa del 10% dei vitalizi attualmente corrisposti le altre valutano il rapporto tra vitalizio e contributo versato con tre metodi differenti con il metodo lineare più è alto questo rapporto più alta sarà la riduzione massima del compenso quello logaritmico sarebbe applicato alle posizioni per le quali il vitalizio mensile è superiore al contributo mensile rivalutato infine potrebbe essere applicato un coefficiente proporzionale per intervenire sul rapporto vitalizio-contributo un gruppo di militanti della Lega Nord composto da una trentina di persone si è radunato fuori dal teatro Giuditta Pasta di Saronno dove stamani era in programma un incontro del ministro per l'integrazione Cecil Chiang con gli studenti delle scuole cittadine vedete le foto tra loro anche un ex militare dell'esercito che ha esposto uno striscione con la scritta siamo tutti marò siamo contrari alla possibilità che venga cancellato il reato di immigrazione clandestina e allo Ius Soli ha spiegato il segretario provinciale Varesino del Carroccio Matteo Bianchi perché la cittadinanza deve essere conquistata presenti anche alcuni cittadini che hanno voluto esprimere il loro disaccordo nei confronti dell'iniziativa leghista lo vedete nelle immagini esiste un tempo per seminare e uno per raccogliere ha detto invece il ministro replicando bisognerebbe chiedere a chi ha governato per tanti anni qual è il risultato del suo lavoro sull'immigrazione la politica adesso però quella milanese Milano deve avere maggiore autonomia nei confronti di Roma bisogna attirare nuovi capitali rendendo maggiormente attrattiva la città lo sostiene il segretario metropolitano del PD Pietro Bussolati che ha anche difeso la minimo in scadenza il 24 gennaio più che altro sostenuto che era assolutamente inevitabile basta chiedere soldi a Roma Milano deve rimboccarsi le maniche agire in autonomia qui le risorse ci sono lo sostiene Pietro Bussolati 31 anni segretario metropolitano del PD Busolati dà un voto positivo al lavoro della giunta Pisapia ma sostiene che Milano è ricca di opportunità e deve diventare maggiormente attrattiva per chi voglia investire la prossima città metropolitana rappresenterà un'opportunità da non trascurare e la mini IMU è necessaria quello che deve fare Milano è far emergere le ricchezze che questo territorio offre da un punto di vista imprenditoriale i co-working le start-up bisogna valorizzare quella che è la nostra forza imprenditoriale poi Roma dovrà risolvere al più presto il buco di bilancio che ha creato lei stessa però per fare casa magari bisogna vendere anche partecipazioni azionarie delle aziende municipalizzate questa strada è giusta oppure no? dove vogliamo dare un indirizzo per migliorare i servizi per i cittadini allora quelle sono le partecipate che vanno tenute a tutti i costi perché sono strategiche quelle che invece non sono strategiche vanno vendute perché sono solo un peso per le finanze pubbliche però per quanto riguarda la mini IMU scadenza il prossimo 24 gennaio sono stati fatti degli errori era meglio non aumentare l'aliquota? no era impossibile non aumentare l'aliquota questo va detto la giunta Pisapia è stata pragmatica e ha cercato di sistemare il bilancio nonostante una condizione disastrosa con l'arrivo della nuova area metropolitana potrebbe cambiare qualcosa? certo che sì quella è l'unica strada che ci fa uscire dalla crisi da 1 a 10 che voto dà la giunta Pisapia? io gli do un 8 perché ha gestito la città in una situazione davvero complessa e difficile e sono molto contento del lavoro che loro hanno fatto e hanno tutto il nostro sostegno anche nei rapporti con Roma a proposito di IMU vi ricordo l'appuntamento di stasera con Linea d'Ombra in studio anche il commercialista Emanuele Pistone che risponderà alle vostre telefonate e potrà chiarire anche i dubbi sul calcolo della tassa Linea d'Ombra stasera ore 20.30 su Telenova risparmiare tempo ed evitare code si può con la stampa da casa dei certificati anagrafici del Comune di Milano una scelta possibile sul 50% delle operazioni normalmente svolte dagli uffici anagrafe è il messaggio di una nuova campagna d'informazione intitolata Semplificami nel 2013 i certificati online sono stati 75.000 dei 272.000 emessi dall'amministrazione l'obiettivo entro il 2016 è arrivare alla metà la campagna che prevede 1.500 manifesti 500 locandine 3.000 volantini e banner online è stata presentata in occasione dell'inaugurazione della rinnovata sede anagrafica in piazzale Accursio lo vedete nelle immagini vogliamo sensibilizzare i cittadini ad avere un nuovo rapporto con i servizi civici e l'anagrafe un rapporto più diretto grazie alle nuove tecnologie ha spiegato l'assessore al commercio e appunto ai servizi civici Franco D'Alfonso stiamo pensando di introdurre nei prossimi mesi servizi di consulenza ai cittadini sui tributi sconti e agevolazioni per tessere e abbonamenti dell'ATM grazie a un tesoretto di circa 2 milioni di euro il Consiglio Comunale di Milano entro breve tempo potrebbe decidere di dare una boccata di ossigeno agli anziani e a quanti utilizzano i mezzi pubblici in determinate fasce orarie potrebbero esserci novità entro breve tempo per quanto riguarda gli abbonamenti ATM ci sono alcune ipotesi sul tavolo della Commissione Trasporti di Palazzo Marino ad esempio un'agevolazione oraria per chi viaggerà sui mezzi pubblici dalle 10.30 del mattino in avanti e poi l'abbonamento annuale che potrà durare uno o due mesi in più o ancora l'inalzamento della soglia del reddito ISE per ottenere sconti e agevolazioni e maggiore attenzione agli ultra 65 anni ricordiamo infatti che l'abbonamento ordinario mensile costa 35 euro quello per i giovani sotto i 26 anni 22 euro per quanto riguarda gli anziani donne sopra i 60 anni e uomini oltre i 65 da quest'anno il costo è praticamente raddoppiato giungendo a 30 euro per chi ha un reddito ISE superiore ai 20.000 euro e 22 euro per chi è sotto questo limite adesso grazie a circa 2 milioni di euro che fanno parte del cosiddetto tesoretto relativo al fondo equità da oltre 5 milioni il Comune vorrebbe venire incontro ai cittadini per agevolare il ricorso al trasporto pubblico stanno dunque prendendo corpo vari provvedimenti tra i quali una tessera a prezzo scontato per chi viaggerà dopo le ore 10.30 quando è ormai passato l'assalto nelle ore di punta dei pendolari tra poco la palla passerà al Consiglio Comunale che dovrà mettere nero su bianco le decisioni immaturate dalla Giunta e dalle commissioni incaricate l'amministrazione comunale tiene d'occhio anche la vicenda della nuova tassa sui servizi Tasi che così come è stata annunciata rischia di far perdere un centinaio di milioni alle casse municipali e anche da questo dipenderanno i costi dei servizi che verranno offerti ai milanesi Prima di chiudere proviamo a recuperare il servizio che avevamo annunciato prima sul calcio e sul mercato con Guarini e Vucinic che ancora non sanno cosa sarà di loro anche perché Toir è atteso a una decisione dopo le proteste dei tifosi interisti su questo trasferimento questo scambio entro poche ore magari già questa sera vediamo il servizio Sembrava fatta invece bisognerà attendere ancora qualche ora per vedere se Mirko Vucinic andrà all'Inter e Freddy Guarin vestirà la maglia bianconera lo scambio alla pari dato per certo nel pomeriggio si è improvvisamente bloccato dopo la protesta della curva nord contro il nuovo presidente Eric Toir il passaggio di uno dei giocatori più importanti della Rosa a un'altra società italiana è la goccia che fa traboccare il vaso hanno scritto i tifosi dell'Inter in un comunicato reazione che potrebbe spingere la nuova dirigenza a fare un passo indietro e valutare l'ipotesi del prestito anche se a quel punto salterebbero le ricche plus valenze in sede di bilancio l'idea di portare il Montenegrino da piano gentile è nata subito dopo l'ennesimo KO a Genova il gennaio da incubo di Mazzarri prosegue solo sette punti nelle ultime otto partite l'ultima vittoria è quella del derby a dicembre Mazzarri aveva chiesto un attaccante a Toir da affiancare a Palacio visti i problemi fisici che tormentano i cardi e Milito Vucinic chiuso a Torino dalla coppia gol Tevezio-Rente con contratto in scadenza nel 2015 cerca un posto dove riprendere a giocare da titolare intanto sempre a Milano sponda rosso-nera si festeggia il ritorno alla vittoria con l'esordio in panchina di Clarense Edorf Verona piegato nel finale da un rigore è stato Balotelli a regalare la prima gioia al nuovo tecnico squadra motivata poco spettacolo e molto possesso palla quanto basta per i tre punti grande attesa infine per la sfida di domani sera all'Olimpico tra Roma e Juventus per i quarti di finale di Coppa Italia gara secca con i giallorossi il 3-0 dello Juventus Stadium in campionato mercoledì sarà il turno del Milan contro l'Udinese giovedì sera derby Fiorentina-Siena a chiudere il tabellone dei quarti la sfida tra Napoli e Lazio il prossimo 29 gennaio aggiornamenti sulla vicenda Guarin Vucinic tra poco a Nova Stadio Sprint Michele Marchetti e i suoi ospiti seguiranno quello che è la trattativa di mercato più discussa possiamo vedere gli appuntamenti di Telenova per questa sera alle 20.30 la politica l'abbiamo detto anche prima comprensiva di commercialista se avete dubbi sull'Imu con Adriana Santacroce alle 20.30 linea d'ombra questa edizione del TGN termina qui buona serata davvero a tutti dopo di noi il meteo a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori